Siamo presso l'azienda Il Pirotecnico, sito a Taranto in via Regina Elena 91, quasi ad angolo con via Mazzini e ricordiamo Il Pirotecnico è quell'azienda del Cavaliere Gaetano Insogna e Figli, un'azienda leader nel settore dei prodotti esplodenti, una esperienza ventennale con riconoscimenti di alto livello. attestanti appunto la professionalità e la sicurezza nel settore. Ho al mio fianco il Cavaliere Gaetano Insogna. Allora, ora vogliamo occuparci di sicurezza e quindi le voglio porre un po' di interrogativi, di domande che serviranno agli amici da casa per comprendere meglio la materia. Iniziamo così col chiedere quali caratteristiche devono avere i prodotti pirotecnici per essere venduti in una rivendita autorizzata. I nostri clienti devono fare attenzione durante l'acquisto, come dicevo prima, che devono essere un prodotto sicuro, omologato, marchiato c'è e acquistarli nelle nostre rivendite autorizzate. Che automaticamente, una volta che noi cediamo il prodotto, dobbiamo darle sicurezza e soprattutto dobbiamo spiegare quella modalità d'uso che devono avere su questo prodotto. Noi come persone esperte ne possiamo dare massimo dei consigli e soprattutto poi devono fare attenzione quando trasportano il prodotto devono essere rilasciato lo scontrino. Lo scontrino è importante perché dopo che escono dai nostri locali possono avere un fermo da qualsiasi autorità e automaticamente presentano il nostro scontrino. Il nostro scontrino gli dà sicurezza e fiducia che sono stati acquistati in un luogo sicuro e hanno la legittima acquisto e hanno il legittimo acquisto che hanno fatto. Parliamo delle categorie dei prodotti pirotecnici. Come si dividono per categorie? Le categorie sono cambiate nei svariati degli anni e continuano a cambiare. I vecchi prodotti di categoria di ex libera vendita ora sono riportati in quinta D, in quinta C, P1 e P2 e quindi queste bisogna fare molta attenzione. Questi bisogna darli a persone che io vendo solamente, a persone che sono maggiorenni. Dopodiché esiste il prodotto che si chiama F2 che è un prodotto che si può vendere a persone di maggior età a livello professionale, che sono i prodotti che vedete qui esposti nei nostri depositi. E poi esiste il prodotto di F3 che ce l'abbiamo sull'altra categoria, che sono prodotti professionali che servono per poter avere la possibilità di acquisto il porto d'armi. Ok, e allora parliamo di sicurezza, parliamo di controlli. Da chi vengono effettuati questi controlli? I controlli vengono effettuati costantemente dalla questura di Talont, dall'ufficio amministrativa. persone veramente esperte e valide sul settore pirotecnico, che ci danno anche loro a noi dei consigli e ci fanno capire come bisogna costantemente fare attenzione alla vendita e quello che bisogna vendere. Perché anche noi che siamo esperti, con le nuove normative, loro ci tengono sempre informati su tutto. Ecco, alcuni consigli che lei da esperto del settore si sente di dare ai clienti. Io ripeto su tutto quello che ho detto prima, ai nostri clienti, vi raccomando durante gli acquisti, non prendete roba non omologata, perché tutto quello che ora è omologato è sotto 10 decibel, parlando su materiali esplodenti. Prendendo un materiale marchiato, c'è, tutto questo prendendole nelle nostre rivendite, che sono rivendite autorizzate, ripeto nuovamente, ve lo ripeto, è un prodotto che noi rilasciamo uno scontrino. Con lo scontrino voi avete il legittimo acquisto e ne potete fare miglior uso che ne volete su aree private. Per concludere, è il periodo di Natale, si avvicina il 2020, a chi si sente di formulare gli auguri? Tutti i nostri clienti, che sono stati persone veramente squisite, ogni anno ci hanno dato attenzione e ci danno costantemente retta su come utilizzare i nostri prodotti. So che in questo momento vuole ricordare una persona cara che nel ricordo vive tra noi, suo padre. Il mio caro papà ha dato una forza veramente strepitosa per poter andare avanti sul mio settore pirotecnico, un mestiere molto pericoloso, che mi ha dato veramente tanta volontà di fare questo mestiere. Ce lo ricordiamo e lo teniamo nel nostro cuore. Un grosso bacio papà. Ti vogliamo bene. Acquistate i nostri fuochi dal Cavalieri e dai Rinsonni, che sono il più sicuro del mondo. Auguri a tutti. A tutti i miei clienti, un buon Natale e un buon anno 2021.